Torino è la città d'Italia in cui la Giunta Comunale ha applicato l'aliquota del Limo più alta in assoluto, 5,75 per mille, più di Roma, che ha applicato il 5 per mille, e più di Milano, che ha scelto un'aliquota del 4 per mille. E la denuncia della Will, che a pochi giorni dalla scadenza per il saldo dei pagamenti, fissata per il 17 dicembre, mette in luce la situazione di tante famiglie torinesi che, flagellate dalla cassa integrazione e dalla disoccupazione, dovranno indebitarsi ulteriormente per pagare quanto dovuto allo Stato. In un momento come questo, laddove la gente riesce a malapena sopravvivere, quando vi riesce, una tassazione così alta, noi ricordiamo che l'ICI era l'1 per mille, quando esisteva l'ICI, dall'1 per mille al 5,75 per mille, inserito in un contesto drammatico come questo, vuol dire che molta gente, e nei nostri uffici ne viene tanta, dice io Limo non la pago. Ogni famiglia torinese in media paga di IMU 323 euro per la prima casa e 986 per la seconda, alla quale è stata applicata un'aliquota del 10,6 per mille. Queste cifre sono dovute soprattutto alle tasche vuote del comune, che deve far fronte ad un debito da 4,5 miliardi di euro e che è impegnato nella corsa per rientrare nel patto di stabilità. La colpa però è anche del registro catastale, sul quale sono definiti i valori degli immobili, registro che non è aggiornato da 30 anni. E questo fa succedere che case che all'epoca erano considerate signorili, e quindi accattastate, perché all'epoca era anche un vanto, accattastate a cassa 3 con categoria 4 e 5, pagano molto più di IMU, di case costruite oggi con tutti i criteri moderne, che però vengano accattastate in A2, in A3, con categoria 3, e che quindi con un'aliquota molto più bassa. La Will chiede un IMU che sia riparametrata al valore effettivo delle case, ma anche al reddito delle famiglie.